Weekend caldissimo per i flussi di traffico con un sabato da bollino nero e una domenica da bollino rosso. Nebbe lunese da anni e l'Alemagna ad andare maggiormente in sofferenza nei periodi turistici. Il punto dolente spesso e volentieri è tratto tra l'uscita della 27 e l'abitato di Castellavazzo. Così nel weekend più critico dell'estate abbiamo fatto un esperimento simulando una partenza poco intelligente. Tragitto tra Vittorio Veneto e Cortina con partenza alle 10.15 del mattino. Strumento utilizzato Google Maps che grazie alla geolocalizzazione dei cellulari e ai dati consolidati per periodo ed orario riesce a fornire una previsione dei tempi di percorrenza. D'altronde è una delle soluzioni più utilizzate da chi cerca indicazioni sul tragitto. Risultato, la strada più breve è anche, in termini di tempistiche, la peggiore. L'ipotetica auto dei turisti si ritrova imbottigliata proprio all'uscita della 27. Fino a Longarone è un calvario, l'intensità del rosso indica la lentezza di movimento. Google suggerisce la deviazione per Ponte nelle Alpi che consentirebbe di arrivare a Cortina in 2 ore e 9 minuti. Perché non prendere invece il collegamento diretto che taglia diversi chilometri di percorrenza? Perché è lì che, secondo Google, si verificherà l'imbottigliamento peggiore in grado di allungare il viaggio di 23 minuti. Dallo svincolo per la Val di Zoldo fino a Zuel, dove sono previste alcuni rallentamenti, la simulazione parla di un viaggio tutto sommato scorrevole. Evidente, in questo senso, il ruolo dei cantieri stradali di Longarone, il collo di bottiglia più problematico. Le code, effettivamente, si verificano anche nella realtà. Se uno studio della CGA di Mestre dice che gli italiani passano in media 38 ore l'anno fermi in auto, la simulazione di partenza poco intelligente parla di un'ora di coda. Basta osservare cosa succede, ipotizzando una partenza martedì 12 alle 5 del mattino. Lo stesso tragitto si fa in un'ora e venti. Intanto la regione ha attivato tre gruppi di protezione civile per il supporto alla viabilità a Longarone nel weekend. A livello generale si pone poi il tema dei tir in Valle del Boite, dove i punti per il sorpasso sono pochi. Sei associazioni ambientaliste hanno chiesto al prefetto di Belluno la firma di un'ordinanza per il blocco del transito.